La laurea è certamente uno dei traguardi più attesi dagli studenti che decidono di intraprendere il cammino accademico. Una strada non sempre facile ma che si conclude con grandi soddisfazioni. Lo confermano i quattro giovani neolaureati che nel pomeriggio di lunedì sono stati premiati dal BIM per avere concluso al meglio il percorso universitario con un'attesa di laurea sul territorio valtelenese e Valchieve-Nasco. Abbiamo visto veramente un ampio spettro quindi sia passati dall'agricoltura al patrimonio artistico ma anche un tema importante quale il dissesto e le alluvioni, non dimentichiamo che quest'anno ricorda proprio il trentennale. Ai nostri giovani laureati l'augurio a nome del tutto l'esecutivo, di tutti i membri dell'esecutivo del BIM è che loro oltre ai complimenti per il successo scolastico e l'importante traguardo raggiunto possano trovare nella nostra provincia un'adeguata occasione di sviluppo di lavoro e di professionalità e che quindi si possa per certi versi contenere la fuga di cervelli e che queste menti fresche e volenteroso possano trovare un'adeguata occupazione sulla nostra provincia. Ad ottenere l'assegno da 1500 euro, Simone Antonioli Di Grosio, laureato presso l'Università di Padova che ha trattato i tempi di monitoraggio e smontaggio di sistemi di trasporto a fune in ambiente boschivo Silvia Canzone di Chiavenna e Riccardo Donini di Morvegno del Politecnico di Milano che si sono invece occupati rispettivamente dei piani di emergenza delle alluvioni e del forte canale Sertoli di Tirano ed infine Alessio Martinali da Coggio Valtellino, proveniente dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano che si è invece occupato della valutazione igienica della produzione di ricotta stagionata con successivo studio dell'alterazione del prodotto da un particolare batterio.